Ciao a tutti, nello scorso video vi ho parlato dei miei prodotti preferiti di make up del 2021 quindi oggi come promesso vi parlo di tutti gli altri prodotti beauty preferiti di quest'anno che sta oramai finendo allora esattamente come per quanto riguarda il video sul make up anche in questo caso ho tirato fuori proprio il meglio del meglio vengo dal mio low by ear che sicuramente ha interessato più la sfera del make up rispetto alla sfera della skin care eccetera eccetera ma anche in questo caso, anche in questo campo insomma sono stata piuttosto contenuta con gli acquisti, con le cose nuove eccetera eccetera quindi quelli di cui vi parlo oggi non sono preferiti, sono preferitissimi tant'è che non ci sarà un prodotto per ogni singola categoria ci saranno delle categorie vuote non perché non abbia utilizzato dei buoni prodotti che tra l'altro in alcuni casi sto ancora utilizzando ma perché proprio ho voluto scegliere il meglio del meglio quello che ho già ricomprato più volte quello che ricomprerei insomma il top del top come giusto che sia in un video di questo genere allora partiamo dal skin care partiamo da dei prodotti che servono per struccarsi allora come struccante bifasico io ho usato solo ed esclusivamente questo in più esemplari per tutto l'anno ovvero il Nivea struccante occhi bifase, quello al fior d'aliso ve l'ho fatto vedere in un milione di video ho compreso un milione di video prodotti finiti anche questo sta terminando oramai secondo me è il miglior bifasico che c'è in commercio efficacissimo, toglie tutto, anche il trucco più strong in pochissimo tempo è delicato, io mi trovo molto bene, lo sapete come prodotto invece struccante viso vi mostro questo olio struccante di Kiehl's che è vero che io sto usando da poco tempo in questa travel size ma lo conosco bene perché l'avevo usato in passato quindi mi posso esprimere tranquillamente si tratta del Midnight Mamma mia ci vedessi come al solito Midnight Recovery Botanical Cleansing Oil è della stessa linea del famosissimo Midnight Recovery Concentrate Olio Viso questo è appunto l'olio per struccarsi per me è un prodotto eccezionale al di là del fatto che ha un profumo meraviglioso molto botanico Sati Lavandas è leggermente erbace è proprio quel profumo da trattamento spa ma al di là di questo io lo adoro perché è un olio ma non ha quella sensazione che può infastidire dell'olio molto denso si stende sulla pelle si massaggia sulla pelle come se vi faceste una carezza di seta è delicatissimo perfetto per pelli sensibili come la mia anche per pelli secche ma in generale per tutti i tipi di pelle perché non è un olio pesante scioglie benissimo il make up è in assoluto il prodotto più efficace e più veloce da utilizzare in questo senso che io abbia provato in generale direi comunque quest'anno di sicuro si emulsiona con acqua diventa un latte leggerissimo e asporta l'impossibile ripeto funziona meglio di qualsiasi cosa abbia provato quest'anno tra l'altro ha una durata eccezionale perché ne serve poco un prodotto del genere vi dura tantissimo ripeto questo è in travel size quindi sicuramente anche il costo un po' più elevato rispetto a altre cose si ammortizza decisamente io lo amo moltissimo io direi che possiamo passare ai seri a questo punto vi ho detto appunto che sto usando prodotti che mi piacciono tipo detergenti che uso e usato che adoro tonici eccetera eccetera però non c'è niente per cui mi strappi le vesti diciamo quindi possiamo passare tranquillamente ai seri qui vi parlo di tre seri che conosco molto molto bene da tanto tempo allora innanzitutto il Florence Biocosmesi siero la vitamina C con acido ialuronico vitamina E e acido ferulico per me questo è un prodotto pazzesco è la quarta confezione che sto terminando ne ho già una nuova da cominciare si tratta di un brand italiano che rivende attraverso Amazon sono 60 ml di prodotto e il costo di questo prodotto è di 14 euro per me è imbattibile il rapporto qualità prezzo ma voglio dire lo sto usando ininterrottamente da due anni sempre al mattino a volte sia la mattina che la sera a seconda della stagione specie in estate mi piace molto utilizzato in tutte e due le occasioni della giornata è un siero meraviglioso a mio avviso ha un'ottima consistenza non è troppo liquidino ma non è neanche troppo fluido si assorbe benissimo e secondo me funziona alla grande sulla luminosità sull'uniformità della grana della pelle sulla tonicità in generale voglio dire se è la quinta confezione che ho in mano un motivo ci sarà più volte sono stata tentata specie le ultime due volte che l'ho acquistato di provare qualcos'altro proprio per il gusto di provare qualcos'altro però sinceramente poi alla fine ha prevalso su di me il discorso squadra che vince non si cambia mi trovo benissimo c'è poco da fare un altro prodotto che conosco benissimo e che è all'opposto dal punto di vista del costo del prezzo è l'Estée Lauder Advance Night Repair il primo siero mai messo in commercio sul mercato della Cosmesi per me questo prodotto è favoloso io l'ho usato ininterrottamente per 10 anni direi tra i 25-26 anni anche di più di 10 anni 38-39 anni l'avevo poi abbandonato ho comprato spot semplicemente perché ha un costo elevatissimo diciamo che non è tra i costi più elevati che esistano nella profumeria tradizionale ma comunque un costo decisamente elevato io temo che non tornerò più indietro perché ho ritrovato esattamente i benefici che avevo già riscontrato in passato ma oserei dire di più perché sono più anziana quindi probabilmente vedo ancora di più gli effetti di questo siero ora a 46 anni suonati da un pezzo che non quando ne avevo 27-28 perché questo siero diciamo globale è un siero che agisce specialmente di notte ma si può usare anche di giorno specialmente in estate anche di giorno perché perché favorisce la rigenerazione cellulare cos'è che noi tendiamo a perdere sempre di più man mano che passa il tempo la capacità delle cellule di rigenerarsi è quello che poi porta all'invecchiamento generale della pelle quindi alla produzione di rughe alla perdita di tono alla perdita di luminosità la rigenerazione cellulare naturalmente avviene di più di notte durante il riposo notturno questo siero va a stimolare la rigenerazione cellulare quindi non è un siero che si può definire in senso stretto anti-age è un siero che grazie a questi attivi fa sì che tutti i danni derivanti alla pelle dal passaggio del tempo siano decisamente attenuati allora questo non è un prodotto che se utilizzate per una settimana dite wow è la cosa più bella del mondo cioè non ha quell'effetto immediato piacevole cioè sì è piacevole dà subito una bella sensazione di idratazione di pelle distesa questo sì ma non è questo l'effetto che dovete riscontrare che riscontrerete se funziona sulla vostra pelle per davvero di questo siero questo siero funziona sulla lunga distanza è assolutamente necessaria la costanza va utilizzato come minimo una volta al giorno per tutto il periodo di trattamento per vedere gli effetti promessi e secondo me mantenuti di questo siero secondo me a volte si fa l'errore specialmente quando si usa un prodotto che costa molto di usarlo poco per risparmiarlo perché siccome costa tanto poi finisce e ci dispiace in realtà questo è il modo migliore per buttarvi i soldi perché se un siero del genere lo utilizzate due volte alla settimana o solo quando vi sentite che avete voglia della coccola non ha senso potete usare qualcos'altro che vi dia quell'effetto non so un semplicissimo siero all'acido ialuronico per ottenere quell'effetto io che cosa riscontro con questo siero ma dopo l'utilizzo di almeno due mesi riscontro che la pelle è decisamente più bella voi lo sapete che io soffro di rossori di rossori permanenti di rossori che si formano e vanno via ho la pelle sensibile ovviamente essendo questo un siero globale che quindi ha una funzione anche riparatrice perché rigenerando più velocemente le cellule rinnova la pelle la mia pelle è molto molto più uniforme quando dico molto vuol dire molto è una cosa che hanno riscontrato persone che mi hanno visto spesso struccata me l'hanno proprio detto quindi il primo effetto è quello il secondo la luminosità il terzo il tono e il quarto anche un leggero assottigliamento delle rughe più superficiali con uso costante per mesi è favoloso favoloso perché è ottimo anche d'estate specialmente di giorno perché avendo appunto questa funzione rigenerativa va a riparare o prevenire danni da sole quindi per me questo è un prodotto magnifico sotto tutti i punti di vista un terzo siero comunque che vi voglio assolutamente citare in questo video perché è meraviglioso è questo prodotto di Ava questo mi è stato inviato dall'azienda ma se mi seguite da tanto tempo sapete che io ho utilizzato Ava in passato comprato da me e questo siero infatti l'avevo scoperto io anni fa tre anni fa mi pare si tratta del Dead Sea Osmotor aspettate che ho gli occhiali perché non utilizzarli allora Dead Sea Osmotor Concentrate Moisture and Radiance Boosting Serum allora Ava è un'azienda israeliana che lavora con i benefici dei sali del marmorto è un'azienda assolutamente sostenibile dal punto di vista del preservare l'ambiente in cui lavora e ha brevettato questa miscela di sali minerali chiamata Osmotor che è decisamente benefica sulla pelle i sali del marmorto sono tradizionalmente considerati curativi per la pelle a livello dermatologico curativi in senso cosmetico anche a livello tradizionale dalle popolazioni locali questo è un siero che come consistenza si avvicina tantissimo a quello di Estée Luder si tratta di un prodotto piuttosto fluido non è particolarmente acquoso questo è finito purtroppo e secondo me questo dà degli effetti simili rispetto all'Advance Night Repair specialmente sulla breve distanza cioè io non trovo in questo siero gli effetti riparatori rigenerativi proprio della pelle che ha l'Estée Luder ma gli effetti più immediati quindi un bel turgore una bella luminosità una bella idratazione è un siero perfetto in questo senso specialmente per la sera gradevolissimo da utilizzare e questo costa la metà rispetto all'Advance Night Repair quindi credo di avervi dato tre opzioni tutte e tre molto valide a tre prezzi molto diversi e sono tre prodotti che io amo veramente moltissimo per quanto riguarda il contorno occhio da parlarvi di due prodotti di Sweetest Cosmetics il brand di Federica Piccinini che mi ha inviato nel corso dell'anno un po' di cose le cose che ho preferito sono senza dubbio il siero e la crema con tornocchi e la maschera idratante nutriente viso che vedremo dopo purtroppo quando ho fatto i prodotti finiti in cui c'erano il siero e la crema con tornocchi di questo brand non so perché il siero l'ho buttato via credo perché siccome era in una confezione di vetro e andavo a buttare via il vetro probabilmente l'ho buttato via non l'ho tenuto per questo video in ogni caso per me la combo perfetta è data proprio dal siero e dalla crema proprio da utilizzare insieme il siero da subito è molto accoso leggerissimo si assorbe subito ed ha immediatamente un senso di sveglia di luminosità alla zona mentre la crema è decisamente idratante nutriente ma non pesante insieme a questi due prodotti sono favolosi si chiamano sweet eyes questa è la crema con tornocchi il siero si chiama sweet eyes siero con tornocchi visto che ve l'ho citata anche questa l'ho finita però ho visto che Federica è uscita con un kit che contiene altre due maschere oltre a queste vorrei tantissimo provarle questa è la maschera notte sweet dreams ve ne ho parlato tantissimo è una maschera veramente nutriente idratante addirittura riparatrice per la pelle e può essere utilizzata al posto della crema notte oltre sopra la crema notte a seconda delle vostre esigenze che abbiate la pelle più o meno secca eccetera eccetera ma anche come effetto bottee immediata ed è uno degli utilizzi che ho fatto di più di questa maschera perché proprio ridà vita alla pelle se avete la pelle stanca spenta un po' disidratata tenere in posa questa maschera dai 10 minuti alla mezz'ora e poi sciacquarla via vi rimette al mondo e io l'adoro faccio complimenti a federica perché è veramente un prodotto ottimo per quanto riguarda le creme per me la scoperta di quest'anno sono state le creme di biolis che trovate da tigota o in qualsiasi rivenditore di questo genere a prezzo pieno a 5 euro 99 e spesso sono in offerta a 3 euro 99 io cosa volete che vi dica mi sono piaciute da matti allora sappiate che lo sapete ve l'ho detto tante volte io cerco nel siero più che nella crema degli attivi specifici che siano anti-age che siano illuminanti quello che è io ricerco quelle cose dal siero per me la crema deve essere idratante e o nutriente e protettiva quindi deve essere diciamo l'ultimo rivestimento che la mattina idrata la pelle e protegge dagli agenti esterni e la sera idrata e nutre la pelle quindi io ho capito che per la mia pelle sono perfette delle creme molto semplici e con queste mi sono trovata benissimo ne esistono tre tipologie in commercio io ne ho provate due quella la melagrana è finita ma ne ho usate due ho finito due confezioni quest'anno trovo che sia molto idratante bella leggera fresca piacevolissima da indossare di giorno nove mesi all'anno e anche di sera d'estate è più che sufficiente per me a me dà l'idratazione perfetta una bellissima luminosità mentre questa che ho amato tantissimo la sera è quella alla mandorla dolce che tra l'altro ha un profumo allora quella alla mandorla dolce ha un profumo dolce ma non troppo si sente la mandorla ha un profumo di crema buona non so come spiegarmi quella alla melegrana ha un profumo più fruttato non ci sono però prodotti aggiunti sapete che Biolis è un'azienda attenta agli ingredienti che siano nella maggior parte in percentuale di origine naturale quindi non ci sono profumi aggiunti sono i profumi derivanti dagli ingredienti questa la mandorla dolce è una crema bella nutriente anche spessa quasi burrosa quando la prelevate ma poi è come se la formula si rompesse sulla pelle si assorbe benissimo e non lascia residui unti durante la notte per me sono state una scoperta devo dire che anche con le creme di Eucerin che sto usando ora di cui vi ho parlato di recente mi sto trovando benissimo ma non ve lo portate qui perché è semplicemente troppo poco tempo che le uso restiamo sulle creme viso e come non parlare delle creme protettive di protezione solare che vanno usate tutto l'anno e non solo d'estate allora io ho utilizzato questa questa è una confezione nuova che devo ancora aprire l'anti-age super UV con acido ialuronico protezione SPF 50 protegge da raggi UVA UVB e UVA lunghi di Garnier Amso Amso ve ne ho parlato tantissimo una l'ho finita questa ad aprire sono creme favolose non si avvertono sulla pelle neanche a 40 gradi 16 truccate sopra e ve lo dice una che le soffre tantissimo queste cose proprio avverto il fastidio se non sono perfette questa è fantastica ancora più leggera questa versione antimacchie super UV questa 50 più UVA UVB e UVA lunghi questa con acido ialuronico può essere messa anche come crema giorno e basta da sola perché se avete una pelle specialmente non troppo secca può essere assolutamente sufficiente questa va messa sopra un'altra crema questa antimacchie perché è quasi liquida ma sono prodotti fantastici che costano poco e non hanno nulla da invidiare ad altri prodotti più costosi sono semplicemente pazzesche poi protezione labbra linea appellab linea dolcezza appellab di elan questi due balsami labbra sono pazzeschi sono uno la stessa lo stesso prodotto una nuova versione pomatosa in pot che uso più volentieri la sera prima di andare a letto e faccio un bel impacco questi questo burro cacao contiene adesso ve lo leggo visto che ho gli occhiali credo di non averlo mai fatto prima allora ceramidi olio di mandorla dolce e olio di ricino bio cera d'api e burro di carità bio e vitamina E questo è poderoso sulle labbra è molto idratante molto nutriente e anche riparatore effetto decisamente molto molto simile all'Ux Rave de Miel ma questo sa di biscotti ha un profumo meraviglioso è leggermente meno pomatoso ma gli effetti sono identici questo ve lo consiglio proprio a occhi chiusi perché è uno stick più facile da usare di questo ugualmente idratante ugualmente nutriente riparatore è uno di quegli stick non troppo lucidini scivolosi ma neanche troppo gomatoso e denso può essere utilizzato di giorno e di notte senza problemi sono fantastici questi prodotti di Elan allora a questo punto andiamo sui prodotti corpo è davvero pochissima roba da farvi vedere ditemi quello che volete ma per me sulla mia pelle non c'è niente di meglio che fare la doccia con questo bagno schiuma doccia di Nivea il bagno doccia creme care col profumo originale di Nivea è semplicemente favoloso ha il classico profumo di Nivea quindi vi deve piacere ha una cremosità non eccessiva non come i Davo non è troppo denso fa una bella schiuma ma non è per niente aggressivo io ho la pelle secca disidratata sensibile che può presentare pruriti questo non aggredisce la pelle assolutamente lo amo specialmente in combinazione a questo cremone che è la crema vellutante 48 ore per pelle secca con burro di karité per me insieme questi due prodotti sono spaziali mi rimettono al mondo la pelle del corpo punto Nivea supermercato tanto bistrattati ma per me ottimi non posso dimenticare per il corpo anche per il corpo la crema di protezione solare è la stessa linea questa della crema viso all'acido ialuronico si tratta della Garnier Amp Solair Advanced Sensitive 50+, UVA UB e UVA lunghi è meravigliosa anche qui abbiamo un packaging come quello della crema viso non ve l'ho detto ecco bio nel senso che è fatto in cartone riciclabile a pochissime parti in plastica profumo piuttosto neutro scusatemi ma mi è suonato il telefono stavo dicendo niente che questa crema corpo mi è piaciuta moltissimo perché nonostante sia appunto con una protezione solare così ampia così profonda devo dire che è sufficientemente leggera se sorbe bene non si suda fuori ed è fantastica anche per i capelli non ho granché di cui parlavi perché anche qui ho provato qualcosa ma niente che mi abbia particolarmente sconvolto per me rimane il prodotto migliore per i miei capelli in assoluto è l'Oreal Elvive Olio Straordinario Rapid Reviver Balsamo Intensivo Istantaneo due volte concentrato ve ne ho parlato tantissime volte uno unesimo unesima confezione finita una da aprire io ho notato che se uso questo balsamo non posso usare qualsiasi shampoo cioè senza alcun problema tranne quelli magari troppo pesanti e questo funziona benissimo quando avevo i capelli più lunghi più danneggiati era tanto che non li tagliavo era in grado questo prodotto di dare questo effetto di chiusura delle squame proprio del capello di capello non crespo o comunque meno crespo del normale adesso funziona ancora meglio avendo i capelli tagliati di fresco lascia i capelli lucidi morbidi costa poco lo amo alla follia un altro prodotto di cui vi ho parlato forse solo all'inizio quando ho cominciato ad usarlo e poi non ve ne ho più parlato ma in realtà io l'uso costantemente tutte le volte che lavo i capelli è questo prodotto di Revlon Revlon Professional Unique One Coconut Hair Treatment questa è la versione del cocco l'originale ha la boccetta rossa e ha un altro profumo poi ci sono altre versioni con altre profumazioni questo si chiama Unique One perché con un prodotto leave-in quindi da utilizzare prima di procedere all'asciugatura ottenete diversi risultati innanzitutto è un termoprotettore e per noi questo è fondamentale perché uso sempre phone, piastra, ferro, rocicappelli eccetera ma poi è anche un idratante fa un bel effetto lucido al cappello sono dieci i benefici utilizzando questo prodotto si eroga spruzzandolo ma è una specie di latte non è propriamente inesistente io preferisco spruzzare tre o quattro pump sul palmo della mano poi lo riscalvo nelle mani e procedo a passarlo nei capelli per me si vede la differenza a parte il fatto della termoprotezione ecco che non posso tanto valutare però vi devo dire che non sporca anche se abbondate un po' non sporca non unge non lascia i capelli apiccicosi e fa effettivamente questo effetto di luminosità idratazione e anche rende il cappello più docile e ancora più condizionato per poi procedere alla piega e l'ho tantissimo amato per quanto riguarda le unghie anche qui pochi prodotti ma buoni il mio top coat della vita il Seshvit Dry Fast è il top coat punto anche qui ne ho usati 5-6 confezioni si gilla l'unghia la rende super lucida e brillante per tantissimo tempo e asciuga davvero in un minuto è una bomba è fantastico come base ho finito tempo fa la mia first base di Essie che è la mia base preferita e ho voluto provare questa di Kiko che in realtà si chiama First and Shiny è una specie di prodotto 2 in 1 base e top coat come top coat non lo prendo neanche in considerazione per me esiste solo questo e poi comunque di solito io ho riscontrato che i prodotti 2 in 1 o funzionano come top coat o funzionano come base come base mi piace tantissimo la sto usando da mesi come vedete non sono ancora a metà è bella liquida mi piacciono le basi che non fanno troppo strato quelle apicicose che non si asciugano mai protegge l'unghia dal colore l'unghia non si macchia coglie bene lo smalto e mi piace veramente tanto come smalti gli Essie quelli classici tutti quelli che ho ma la Kered Up che è quello che indosso è il mio smalto preferitissimo della vita va bene in tutte le stagioni è semplicemente per me il rosso perfetto bello sfavillante bello vivido è stupendo ma devo dire che in quest'anno ho utilizzato con grandissimo piacere anche me ne sono dimenticato uno ma non fa niente anche gli smalti di Fabi Fabi che è questo brand italiano ten free quindi che produce smalti che non contengono dieci elementi diciamo che possono essere dannosi per le unghie sapete che non ci credo ma non importa sono comunque smalti fantastici ottima coprenza ottima formula ottima durata e soprattutto secondo me hanno una bellissima gamma colori molto innovativa mi sono dimenticata di portarvi Vega che è uno degli smalti usciti con l'ultima collezione che è un color fango strepitoso ma questo è un altro rosso per me lo smalto alla fine è rosso più altro io uso tutti i colori lo sapete però potrei vivere anche solo di smalto rosso questo è Fabi's Red quindi rosso Fabi che rispetto alla Kred Up è leggermente molto leggermente più freddo somiglia tanto per darvi un'idea direi che è uguale a Big Apple Red di OPI e a Russian Roulette di Essie di questa linea classica ecco sono due rossi fantastici per quanto riguarda il profumo voi lo sapete che non ho mai perso la passione dei profumi però il 2021 mi ha ridato nuovo smalto ha ridato nuovo smalto a questa mia passione ho provato diversi profumi anche grazie all'abbonamento Uniku che mi hanno inviato loro gratuitamente ma anche grazie ad altre cose però devo dire che c'è un profumo che mi ha rubato l'anima e devo ringraziare una carissima amica che me l'ha fatto conoscere quest'estate avendomi regalato la versione da borsetta di vaniglia verde di strega del castello questo è un brand ideato dalla farmacia del castello di Genova sono profumi preziosissimi meravigliosi io ho avuto occasione di amusarne altri perché c'è un negozio qui a Brescia che li tiene sono uno più buono dell'altro veramente ricercati come gusto ma anche come materie prime hanno proprio quel sentore da profumo di nicchia da profumo che avete solo voi e che non somiglia a nessun altro per me vaniglia verde è un capolavoro ve l'ho detto tantissime volte è difficile trovare una vaniglia così particolare inusuale originale mettere insieme il profumo tipicamente gourmand dolce rassicurante della vaniglia con questa sferzata verde secca un po' maschile fa uscire fuori un profumo che è pura poesia che ha del fumoso del licoroso è molto avvolgente è veramente fantastico e mi esprime tantissimo me stessa questo profumo lo amo alla follia è entrato nell'olimpo dei miei profumi della vita insieme ad Alamut di Villoresi insieme a Five O'Clock O'Gingembre di Sergio Teng senza problema è proprio scalato tra tutte le classifiche è fantastico mi stavo guardando in giro mi pare di avervi parlato di tutto spero che il video vi sia piaciuto di esservi stata utile in qualche modo come sempre vi ringrazio tantissimo vi mando un bacio grande e alla prossima se vi va ciao